La Casa del Padre Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì Se dunque è vostra intenzione nel primo matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Federico accolgo a te Federica come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Federica accolgo a te Federico come mio sposo, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.